Antonio Russo, spiegando bene cos'è l'orrendo fenomeno dello stalking, ha saputo anche fornire alle donne un valido aiuto per riconoscere i rischi fin dall'inizio, quando lo stalker appare un corteggiatore un po' insistente, per poi trasformarsi nel peggiore degli uomini, in grado di incutere così tanta paura da costringere la vittima, per salvarsi, a cambiare il suo stile di vita. Ecco, prima che tutto questo accada, esiste il coraggio e la denuncia. Dalla prefazione dell'Onorevole Raffaele Fitto